Ciao a tutti, mi chiamo Gianni Irvazi e frequento la classe terza C dell'Iceo Scientifico Federico Enrico della città di Livorno. Il libro che ho scelto per questo progetto si intitola Hello World ed è stato scritto da Anna Frey e spiega in maniera molto chiara che cosa sia un algoritmo. Mi è piaciuto molto come libro perché mi ha permesso di capire che molte delle nostre decisioni che noi riteniamo sonome in realtà sono state impilosate da dei grandi sistemi di potere che utilizzavano degli algoritmi creati apposta per condizionarci. Tuttavia l'autrice non vuole comunque negativizzare un algoritmo ma vuole farci capire che un algoritmo può essere buono o cattivo secondo l'uso che ne fa l'uomo. Mi è piaciuto moltissimo partecipare a questo concorso e invito tutti i miei cosani a farlo in quanto mi ha permesso di imparare un sacco di cose utili. Ciao a tutti!